Ciao, sono Angelo Falcone. Faccio parte ormai da Tempo del Movimento Noi, del quale mi onoro essere il Delegato alla Salute. Ho deciso di candidarmi proprio perché la salute dei cittadini di Cosenza in questo momento è messa a dura prova da una gestione scellerata di tutto ciò che riguarda il comparto sanitario nella nostra città. Ho deciso di candidarmi per mettere a disposizione la mia esperienza. Ho deciso di candidarmi per aiutare a dare una mano a risolvere l'annoso problema della sanità nella nostra città. Chiedo di darmi una mano e chiedo a tutti coloro che volessero candidarsi con noi per cercare di cambiare tutto ciò che nella nostra città non va bene, di avvicinarsi al Movimento Noi. Troveranno degli amici e troveranno la possibilità di poter dire la loro senza ingerenze da parte di Netsune. Grazie.